Buonasera con un altro amico, Rino Oscariello. Siamo qua per una serata di puro divertimento, relax. Riesce moltissimo. Tu queste zone le conosci? Sono originario, sono di Napoli, per cui sono quasi a casa. Ma sei investato quando è vero? Per me è un'occasione straordinaria, l'opissione straordinaria, qualità straordinaria, ma soprattutto la grande passione. Abbiamo iniziato già con i cocktail, sono amante di alcuni cocktail, anche vintage italiani, qui sulla base di inverno, etc. Ho visto un bartender con una passione straordinaria, un'esperienza straordinaria, per cui abbiamo creato la giusta base per segnare i tuoi libri e tutto il resto. Esatto, assolutamente sì. Poi sai che c'è un legame di sangue tra i ferro di San Gregorio ed Egg Finance, quindi qua in qualche modo siamo anche in casa di Egg, quindi questa è la terza edizione di questo evento. devo dire che io avendo partecipato al protettore ogni volta qualcosa di nuovo, quindi spero di vederti anche nelle prossime edizioni. Sicuramente sì, tu sai che come il 24 Finance siamo clienti di Egg, con la seconda società che abbiamo costituito, il 24 Max, siamo diventati soci di Egg. Abbiamo costituito la terza società, la 24 First a settembre, e diventeremo clienti di Egg anche con la terza società. Beh, maggiore evidente così non si può. Bene, benissimo. Grazie di essere con noi. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.